Ti è sempre piaciuto disegnare, colorare e vorresti fare di questa tua passione per l'arte un mestiere? Ti senti un creativo, ami l'arte e tutto ciò che fa tendenza. Sei un curioso, ti piace il bello, adori sperimentare mix di figure e colori e ti perdi magari a guardare le vetrine dei negozi, le copertine dei libri, ti piacciono i cartelloni pubblicitari, le gallerie d'arte. Hai di mistichezza con quelli che sono gli strumenti digitali e le nuove frontiere della comunicazione visiva, ti piace proprio, è una cosa che fa per te. Bene, guarda, se anche solo hai qualcuna di queste caratteristiche, allora il lavoro che fa per te potrebbe essere il graphic designer e in questo video ti spiego come fare. Io sono Marco Doria e sono il direttore di Digital Campus, un istituto che eroga master avanzati digitali. La mia missione è portare i ragazzi al raggiungimento del proprio potenziale professionale, perché sono fermamente convinto che la realizzazione di un individuo passi attraverso il suo contributo nel mondo del lavoro. Ma ora guardiamo cosa fa un graphic designer. Il graphic designer è un professionista che si occupa di comunicazione visiva, quindi progetta e crea materiali iconografici. Come nasce però questa professione? Immaginiamoci molti, molti, molti anni fa, proprio quando è nata la comunicazione visiva, quindi quando abbiamo cominciato a imprimere immagini per dare un messaggio. Ecco, questi messaggi prima avevano, diciamo, uno scopo religioso, uno scopo politico, uno scopo di guerra, quindi erano immagini che dovevano dare un messaggio preciso, per esempio su un santo specifico che proteggeva alcune persone, un messaggio politico magari di un re che faceva vedere quanto era forte e imponente, oppure un messaggio di attenzione, guarda che se passi di qua ti fai male. Quindi un messaggio di guerra, un messaggio di pericolo. Ecco, man mano tutto questo, soprattutto nell'era dell'industrializzazione, è diventato anche un messaggio pubblicitario. Quindi se prima se ne occupavano i pittori e quindi gli illustratori, con l'innovazione, diciamo, digitale, con l'innovazione di stampa, con l'innovazione della grafica, è diventata una cosa che man mano si è trasformata sempre di più in un qualcosa che era inerente più che altro alla pubblicità ed era inerente più che altro a un mestiere specifico, ovvero il graphic designer. Attenzione, non confondiamo la pubblicità però con l'illustrazione, ovvero uno può fare grafica anche solo per scopo artistico. Non è detto che questo debba essere per forza un messaggio pubblicitario, però al 90% questo è un mestiere che si occupa di pubblicità, ovvero di comunicare un qualcosa che ha uno scopo di vendita dietro, che possa essere un brand, che possa essere un prodotto o servizio. Quindi, fatta questa premessa, andiamo a vedere nello specifico di cosa si occupa un graphic designer. L'essenza di questo mestiere è coniugare creatività e competenze tecniche, perché oltre ad avere un'idea creativa, che non è detto che sia la cosa più complessa, è in realtà saperla anche mettere in pratica quello che ci interessa, ovvero utilizzare le tecniche, che possono essere manuali o digitali, per realizzare quest'idea. Sebbene sembrerebbe un mestiere molto verticale, ovvero faccio il grafico, in realtà comprende veramente tante sfaccettature. Possiamo però prendere, diciamo, i macro argomenti, che sono la grafica pubblicitaria, ovvero si occupa dell'identità visiva di un brand o di un'azienda nello specifico, contribuendo proprio a creare un riconoscimento e una coerenza attraverso i materiali di marketing, quindi la corporate, crea prodotti ed elementi che costituiscono l'identità delle società e delle aziende, dei brand, dei marchi, attraverso marchi, logotipi, pittogrammi, eccetera, ma anche attraverso manifesti, cartelloni pubblicitari, il packaging, comprese etichette, scatole, eccetera. E poi, nello specifico, si occupa di tutto quello che comunque è la comunicazione verso l'esterno. Poi abbiamo l'illustrazione, che può comprendere anche la grafica editoriale, quindi la progettazione di libri, copertine, ma anche una sfaccettatura potrebbero essere i racconti di storie fatti tramite l'illustrazione, per esempio i fumetti, comunque ci sono tutte le riviste, i cataloghi, i giornali, eccetera. Tutta l'impaginazione, che è una cosa di cui si occupa spesso il graphic designer, quindi saper scegliere i caratteri, saper fare le celle, eccetera, eccetera. E qui già vediamo che c'è illustratore, fumettista, impaginatore, che fanno sempre parte comunque della grande famiglia. Si occupa anche di grafica multimediale. Con multimediale si intende l'insieme di media, che può essere un media tradizionale come la televisione, oppure possono essere i media digitali. Per quanto riguarda i media tradizionali, per esempio, si potrebbe occupare dei titoli di testa e di code dei film, ma anche di come vengono presentate a schermo le notizie, da come vengono presentate a schermo le pubblicità, il montaggio della grafica su quello che è un video, le maschere dei telegiornali, documentari, eccetera. I sottotitoli. Inoltre c'è tutta la grafica per il web, quindi progettata sia dal punto di vista tecnico, quindi di fruizione, ma anche dal punto di vista grafico, quindi i banner, le grafiche, e anche tutto il mondo dei social media, che comunque ha tantissima grafica. Qui c'è anche un altro mestiere in mezzo, che è il web designer, ma lo vedremo dopo. Sempre facendo parte di un grafico che sa lavorare sul web, ci sono le skill di user experience, ovvero per rendere la navigazione più semplice, più interessante, proprio dal punto di vista dell'utente. Quindi un UI designer, UI e UX designer. Ha anche competenze di fotografia e fotoritocco, perché comunque deve saper elaborare la fotografia. Immaginiamoci un e-commerce che deve scattare foto, deve saper elaborare queste foto per metterle poi sul web. E poi c'è tutta una fetta che però non è più riguardante i graphic designer, ma per quanto riguarda i designer, che si parla di design industriale, fashion design, interior design, luxury design. Queste lasciamole a parte perché sono veramente cose diverse. Ogni tanto qualcuno mischia tutto insieme, ma questi sono veramente facente parte del mondo del design, ok? Noi ci occupiamo di grafica. Quindi abbiamo visto che è molto sfaccettato. E tuttavia l'obiettivo principale che accomuna le diverse declinazioni è sempre comunque creare materiale che possa catturare l'attenzione del pubblico in maniera efficace per stimolare una risposta che può essere emotiva, eccetera, oppure un comportamento di acquisto. Quindi possiamo dire che il graphic designer è il grafico pubblicitario? Sì, possiamo dirlo, che fa parte anche questo del graphic designer. Perché il grafico pubblicitario, in effetti, è colui che disegna la pubblicità. Quindi il designer della comunicazione per vendere un prodotto o un servizio. Quindi assolutamente sì. Qualcuno avrebbe da ridire che sono due cose diverse, ma mia esperienza ti posso dire che è la stessa cosa. Fondamentalmente un graphic designer è colui che dà un messaggio che può essere anche pubblicitario. Dove lavora? Quindi dove opera principalmente un graphic designer? Allora, individuiamo tre modi. Quindi presso agenzie di comunicazione o di design, insomma, oppure da aziende che hanno bisogno di un grafico interno. Faccio un esempio, sono un e-commerce di scarpe e ho un mio graphic designer. Oppure diciamo che questo si può fare tramite freelancing, ovvero lavorare con partita IVA per clienti diversi. Quindi che siano agenzie e che siano aziende. Concentriamoci ora sul percorso di studi per diventare un graphic designer. Allora, molto spesso in queste figure professionali c'è anche un passato artistico che potrebbe essere anche da autodidatta. Mi capita molto spesso di sentire ragazzi che mi dicono direttore guardi, io prima facevo tanto disegno a mano libra, mi sento che questa è la mia strada. Però questa non è una regola, infatti non è detto che per diventare dei graphic designer, per essere bravi in questo messiere, bisogna essere anche bravi nel disegno a mano rivera, oppure essere dei creativi nati. Anche perché posso confermarti e posso sottolinearti che conosco tantissime persone che non hanno mai fatto grafica prima magari di aver intrapreso un percorso accademico e poi si sono scoperte brave. Quindi diciamo che potrebbe essere un'evidenza, quindi che ti piaceva disegnare, eri già creativo, ma non è detto, quindi dobbiamo metterci alla prova. Quindi dopo il diploma, un liceo artistico andrebbe benissimo, ma comunque anche altri licei, altri istituti sono perfetti, si può optare per un corso universitario specifico. Ad esempio un corso di laurea in grafica e comunicazione visiva, oppure un'accademia di belle arti dove nello specifico si andrà a fare design e graphic design. Oggi però ti voglio dare un consiglio, ovvero un'accademia professionalizzante che non solo ti forma riguardo a conoscenze e strumenti, ma proprio ti avvia più concretamente alla professione. E la migliore di tutte è Accademia Glam. 100% di fruizione online, risultato in 9 mesi, assistenza 7 giorni su 7 e un tutor dedicato che ti aiuterà a portare a termine il risultato. Qual è la differenza in questo caso? Ecco, in questa Accademia in Glam si mettono le basi per diventare un art director. E dopo ti spiegherò perché è importante, attenzione. Cosa andiamo a vedere in questo percorso specifico? Innanzitutto parliamo di grafica. Quindi la grafica la possiamo suddividere più o meno in grafica raster e grafica vettoriale. La grafica raster è il fotomontaggio, quindi si lavora con software tipo Photoshop e poi bisogna avere basi molto importanti di grafica vettoriale. Per esempio un logo si fa in grafica vettoriale con dei vettori. La grafica vettoriale fondamentalmente ci consente di elaborare l'immagina senza stravolgerla. La grafica raster quindi lavora sui pixel, la grafica vettoriale lavora su un altro sistema che comunque possiamo ridimensionare senza che questo abbia comunque una distorsione. E poi giustamente bisogna lavorare sullo sketching. Quindi anche se non si è capace a mano libera, si inizia a lavorare sullo sketching proprio per imparare a dare la profondità, a utilizzare quelle che sono le proiezioni, che poi si può riversare tutto sulla lavagnetta elettronica per disegnare. Deve avere informazioni e basi di grafica pubblicitaria, quindi tutto quello che riguarda il logo design che rappresenta visivamente un brand o un'azienda, tutto quello che riguarda corporate e branding, conoscere la lettura d'immagine, ci sono delle regole, le gestalt, ci sono delle regole che riguardano anche le funzioni della comunicazione, tutte cose da sapere, e soprattutto avere anche nozioni di packaging, ovvero tutto quello che riguarda le scatole, le etichette, insomma quello che riguarda il materiale fisico che ha dentro la corporate. Deve avere nozioni di web design, quindi saper creare un sito web, ma soprattutto saper lavorare molto bene sulla UX e UI design, quindi sulla user experience, cioè come si comporta il mio utente quando naviga nel sito, come posso fare per rendere tutto migliore, l'esperienza migliore, questo è un compito molto importante, di cui bisogna avere appunto basi di UX e UI design. Deve sapere come dicevamo prima di fotoritocco, ma anche di illustrazione, perché comunque l'illustrazione è importante, immaginiamo di dover fare una copertina di un libro, deve conoscere le basi di motion graphic, quindi magari abbiamo un logo, lo dobbiamo rendere animato, assolutamente bisogna saperlo fare, ma anche tutta una base di quello che riguarda il social media management, oggi un grafico molto spesso si trova a dover lavorare nei social. Ora attenzione, voglio però fare una precisazione, abbiamo elencato tutte queste belle cose che insegniamo in Accademia Glam, ma qualcuno potrebbe dire, non sono d'accordo con te Marco, perché ci sono troppe verticalizzazioni, il grafico deve fare solo grafica, e fino a qua ti do ragione, però ti chiedo di ascoltarmi, perché voglio spiegarti il perché invece sia importante conoscere ed avere una visione a 360 gradi. Questo innanzitutto è importante, perché per potermi specializzare in qualcosa ho bisogno di avere le basi di tutto quello che riguarda la grafica, quindi di fatto per trovare la tua strada devi avere un occhio su tutto, cioè tu devi aver provato, visto, lavorato e studiato la base, per poi tirar su una verticalizzazione. Inoltre poi c'è un altro discorso, volendo poi fare carriera e diventare un art director, ovvero il coordinatore di tutte queste figure professionali che abbiamo visto, hai assolutamente bisogno di aver studiato questa base, cioè tutto quello che riguarda la grafica. Non puoi esimerti da questo, perché altrimenti, guardiamola al contrario, io magari mi specializzo in illustrazione, so fare solo quello che va benissimo, ma ti manca la visione per poter capire meglio come il tuo lavoro si sposa poi con tutto quello che è il resto, ovvero la comunicazione in esterno, i social, il web, insomma, se vuoi diventare un professionista per tutto quello che è inerente la grafica, devi conoscere le basi molto bene. Se posso darti anche un consiglio, leggi di questo libro qua, Come guadagnare online in modo professionale, edito da Epli, scritto da Marco Doria, che sono io, lo puoi trovare su Amazon, è un consiglio che ti do perché questo libro ti spiega la professione nel pratico, quindi come andare poi nel mondo del lavoro e lavorare con, diciamo, i mestieri digitali. Detto questo, ecco perché ti consiglio di avere una bella base e poi tirare su una specializzazione. È vero però, e ti do ragione se questa cosa ti fa alterare, che sempre più spesso vengono cercate figure ibride, ovvero si vedono annunci di lavoro, dicono ok, graphic designer, web designer, devi saper fare di social, saper fare pubblicità, lavare per terra, lavare i piatti, anche cucinarmi. Ecco, questa è una cosa che forse può dar più fastidio. E diciamo che sotto gli annunci molto spesso leggo persone che si lamentano, grafici che dicono, senti, ma io non devo sapere anche spazzare per terra, io faccio impaginazione, sono molto bravo, non capisco perché nei lavori mi chiedete anche di saper fare web design. Allora, questo è vero, perché in realtà non si dovrebbe cercare una figura così poliedrica, però considera anche che le aziende piccole veramente hanno bisogno di queste figure professionali che siano un po', diciamo, scafate in tutto. Chiaramente una persona scafata solo in tutto e non specializzata non sarà mai come avere dieci professionisti, però bisogna anche capire che le aziende piccole non se li possono permettere. Quindi in realtà cerchiamo di dare un bilancio alla cosa, tu comunque studia le basi e una specializzazione e se vuoi lavorare nel piccolo sfrutta le basi, se vuoi lavorare nel grosso dove chiedono gente iper verticalizzata ti sfrutti la tua specializzazione se è a posto. Comunque mi piace sempre dire che il graphic designer è comunque un esperto di comunicazione a tutto tondo e su questo spero che tu sia d'accordo con me. Parliamo adesso del mercato del lavoro. E' bene che tu sappia che per farsi strada in questo settore, soprattutto all'inizio, devi fare gavetta. Cioè non è facile, non arrivi così e lavori e per carità guadagni cifre stratosferiche. C'è da fare gavetta. Quindi bisogna avere un sacco di tenace e tigna. Perché giustamente è un lavoro pieno di concorrenza dove molto spesso si è in over, quindi vuol dire che c'è tanto lavoro da fare, si fanno orari lunghissimi di ufficio e bisogna avere una capacità enorme di tollerare le frustrazioni. Ad esempio le delusioni dei clienti, le delusioni del direttore, eccetera, eccetera. E comunque bisogna anche sapersi distinguere, ovvero essere più bravi degli altri proprio per fare la differenza ed emergere. E vedrai che con tempo e determinazione tutto questo ti verrà ripagato. Detto questo, anche se c'è molta concorrenza, non è difficile inserirsi nel mondo del lavoro, quindi assolutamente troverai facilmente la strada per iniziare. Chiaramente sarà poi più complesso, diciamo, emergere. Però chiaramente lì starà a te alle tue capacità. L'importante, come dico sempre, e come ti ho già detto più di una volta, devi avere le basi, devi avere una specializzazione e man mano diventare sempre più bravo, sempre più unico. Ma adesso parliamo anche un po' di money. Quanto guadagna un graphic designer? Allora, gli stipendi entry level, e con entry level intendo qualcuno che è una figura junior, si aggirano sui 1.550 euro netti al mese, chiaramente di media. So che ci sono tantissime persone che guadagnano molto meno, ci sono tantissime persone che sono in stage, perché molte agenzie, non potendosi permettere 100 grafici, prendono molti stagisti. Questa è una realtà, diciamola. Però diciamo che è una persona che comunque comincia a fare qualcosina, di media si porta a casa un netto di 1.550, fino ad arrivare anche a stipendi di 2.700 euro, a un massimo di 3.200 euro. Qua siamo proprio a livelli di persone che comunque sono signore, lavorano molto bene. Parliamo un pochettino anche di soft skills, ovvero la prima, che ti sembrerà molto strano, è la curiosità. Essere curiosi è alla base di un lavoro di comunicazione, quindi ci va curiosità, ma anche grande attenzione al dettaglio, quindi una predisposizione per notare e utilizzare particolari che possono fare la differenza. La creatività, ovvero il pensiero laterale, l'estro, come lo vogliamo chiamare, è una soft skill molto importante, che però secondo me viene dopo la curiosità, perché è una persona curiosa e di per sé è una persona creativa. Bisogna avere ottime abilità relazionali, molto spesso si parla con i clienti, far capire le proprie idee è difficile, quindi le doti di comunicazione sono importanti, ma comunque anche col direttore e con i colleghi. E attenzione, la più importante di tutte è la pazienza, ovvero capi, colleghi, clienti, ti metteranno veramente a dura prova. Quindi, mi raccomando, parti con tutti i buoni presupposti del santo, perché questo è un mestiere dove bisogna essere un po' santi. E infine, essendo un mondo in continuo mutamento, bisogna essere sempre sul pezzo, quindi ci va veramente adattabilità. Cambiano i software, cambiano le tecniche, si cambia ufficio. Insomma, il cambiamento fa parte di questo mestiere. Se vuoi guardarti qualche graphic designer importante, ti consiglio Milton Glaser, che è morto nel 2020, ma è ancora imitatissimo, Stefan Segmeister e David Carson. Parliamo di ostacoli, perché è bene avere la consapevolezza che questi ci sono e comunque dobbiamo affrontarli e superarli. Sappi che troverai elevata concorrenza, quindi, oltre ad avere le basi, che sono importanti, cerca la tua verticalizzazione, specializzati, diventa unico. È un mestiere dove è importante copiare, ma è ancora più importante non incollare, nel senso che copia un'idea ma fa la tua. I rifiuti del cliente sono all'ordine del giorno e anche del direttore. Molto spesso la tua creatività non verrà compresa, devi fartene una ragione. E ci sono costi legati alla formazione, perché comunque devi rimanere sempre aggiornato. Un altro problema potrebbe essere la sindrome del foglio bianco, ovvero l'assenza di idee. Per questo ci sono varie tecniche, comunque l'importante in questi casi è fermarsi, andarsene e poi tornare con qualche idea nuova. Detto questo, se sei dotato comunque di determinazione, impegno, resilienza e una grande motivazione costante, vai, perché questo potrebbe essere veramente il momento per fare il lavoro dei tuoi sogni. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, metti like, lasciami un commento, dimmi se vuoi approfondire qualche altra professione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!